Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla diacona Carola Stobeus. Veniamo insieme per riflettere su Dio, sorgente e ragione della nostra vita. Insieme nel Disciopolato osiamo seguire Gesù e tentare dei passi sulla strada di una vita equa e solidale. Su questa strada la nostra comunione si rafforza e si rinnova per la potenza dello Spirito Santo. Amen. Con queste parole saluto tutte e tutti voi collegati in video e in radio per celebrare insieme il culto di questa domenica. O Dio, Signore degli anni e dei giorni, mi hai donato molto tempo, un passato alle mie spalle, un futuro ancora aperto. Il tempo era mio e sarà mio ma il tempo proviene da te. Ti ringrazio per ogni istante, scandito dal mio orologio, per ogni mattino che vedo al risveglio. Non ti chiedo di darmi più tempo, ti chiedo di rendermi calmo, disposto a riempire i miei giorni. Aiutami a riservare un po' di questo tempo, libero da impegni e da doveri, per meditare nel silenzio, un po' di tempo per lo svago, un po' per chi aspetta il mio conforto, che lascio spesso ai margini. Ti chiedo scrupolosità ed attenzione per non sciupare i giorni e rendere vano e morto il tempo. Ogni ora è come un piccolo lembo di terra. Vorrei solcarla col mio aratro, gettarvi dentro amore, pensieri e parole che portino frutto. Benedici tu le mie giornate. Amen. Il mio tempo è nelle tue mani, perciò io trovo in te la serenità. Tu sicurezza dai alla mia vita. Tu sicurezza dai alla mia vita. Tu rendi forte il cuore, glode a te, Signore. Il mio tempo è nelle tue mani, perciò io trovo in te la serenità. Tu sicurezza dai alla mia vita. Tu sicurezza dai alla mia vita. Tu rendi forte il cuore, glode a te, Signore. Tutto il tempo che sta dietro di me, hai tenuto nelle mani tue. nelle mani tue, Signore sarà. Il mio tempo è nelle tue mani, perciò io trovo in te la serenità. Tu sicurezza dai alla mia vita. Tu rendi forte il cuore, glode a te, Signore. Il mio tempo è nelle tue mani, perciò io trovo in te la serenità. Il mio tempo è nelle tue mani, perciò io trovo in te la serenità. Tu sicurezza dai alla mia vita. Tu sicurezza dai alla mia vita. Tu rendi forte il cuore, glode a te, Signore. il mio tempo è nelle tue mani, perciò io trovo in te la serenità. Io trovo in te la serenità. Tu sicurezza dai alla mia vita. Tu rendi forte il cuore, glode a te, Signore. Leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 2, i versetti da 41 a 52. I genitori di Gesù andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata. E poi si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti. E non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo. Tre giorni dopo, lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri. Gli ascoltava e faceva loro domande. E tutti quelli che lo udivano, si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. E sua madre gli disse, Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo, stando in gran pena. Ed egli disse loro, Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. E' uno degli avvenimenti più belli dell'anno. Per noi ragazzi di Nazareth. Era il pellegrinaggio che facevamo con i nostri familiari e vicini per la Pasqua a Gerusalemme. Era un viaggio lungo, più di cento chilometri che dovevamo percorrere a piedi. Qualcuno aveva anche un carro, qualcun altro, l'asino, ma la maggior parte di noi andava a piedi. E mi piaceva sempre. Eravamo in tanti, quasi tutti gli uomini del villaggio. Spesso venivano anche le donne. Per loro non c'è l'obbligo, come per gli uomini, di recarsi per la Pasqua al Tempio di Gerusalemme. Noi ragazzi, a dodici anni, venivamo presentati dal nostro padre in sinagoga per il nostro bar Mitzvah, per diventare figlio della legge. A quell'età anche per noi iniziava l'obbligo di andare a Gerusalemme. Ma in genere, dopo i cinque anni, anche noi potevamo andare con i nostri padri in pellegrinaggio. Eravamo sempre in tanti. Da Nazareth partivamo in circa duecento persone. Si viaggiava tutti insieme, si formava una vera carovana. Perché sulle nostre strade non è molto sicuro di viaggiare da soli. Troppi banditi e ladroni girano lì intorno. Potete immaginarvi che c'era sempre tanta confusione e noi ragazzi giravamo come volevamo. Aggregandoci ora ad una famiglia, ora ad un'altra. Oppure ci organizzavamo dei giochi mentre si procedeva lentamente. Era sempre molto divertente. Soltanto la sera, all'imbrunire, ci si fermava a volte in un caravanseraglio. Ma molto più spesso ci accampavamo in un prato lungo la strada per mangiare e riposare. Dopo quattro, cinque giorni di cammino si arrivava a Gerusalemme. Tutti i pellegrini che arrivavano da tutto il paese non potevano stare nella città. Perché fuori le mura erano organizzati per accampare tutti quelli che arrivavano. Si formava una gigantesca tendopoli. Lì era proprio importante che si sapesse dove era la propria carovana per noi perdersi tra migliaia e migliaia di persone. Ma dopo poco tempo noi ragazzi imparavamo bene la posizione e non avevamo problemi. La maggior parte di noi stava per sette giorni a Gerusalemme. Prima per la festa di Pasqua e poi per i giorni degli azimi. A Gerusalemme noi ragazzi non eravamo sempre liberi, no, no. Nei paraggi del Tempio c'era la sinagoga dove si insegnava la nostra legge ai bambini e ai ragazzi. Da quando avevo cinque anni ci andavo insieme ai miei compagni. Lì c'erano dei rabbini, i nostri maestri, insegnanti insomma, che stavano seduti su uno sgabello oppure su un cuscino e in semicerchio intorno a loro stavamo seduti noi ragazzi. Loro ci facevano delle domande, noi rispondevamo oppure chiedevamo spiegazioni e loro spiegavano. La nostra legge dobbiamo imparare a memoria perché non sappiamo leggere, solo i maestri lo sanno. E allora ripetiamo tante volte le stesse cose per imparare bene tutta la storia del nostro popolo con Dio, i comandamenti e le regole, la Torah insomma. Non è mica facile ricordarsi tutto e spesso queste lezioni erano proprio lunghe e difficili, ma dopo aver avevamo tempo di girare per Gerusalemme, con i nostri padri andavamo al grande tempio per portare il sacrificio e per pregare. Le donne e le donne e le bambine potevano soltanto arrivare fino al cortile esterno, ma noi andavamo dentro dove sono i sacerdoti. Dopo sette giorni si toglieva l'accampamento e iniziava il lungo viaggio verso casa. Noi sapevamo bene quando si partiva era importante non perdere la carovana perché altrimenti era proprio pericoloso viaggiare da soli. Del pellegrinaggio a Gerusalemme avete appena sentito parlare. Il resto è la storia quotidiana della crescita di un adolescente. Qui nella vita del giovane Gesù non c'è niente di straordinario, anzi, un episodio che succede ogni giorno, quando genitori si devono misurare con la crescita dei propri figli, quando fanno tardi la sera e non rientrano all'orario stabilito, quando i ragazzi cominciano a misurarsi con le regole e Giuseppe e Giuseppe e Maria sicuramente hanno vissuto la stessa situazione. Certo, loro hanno messo tre giorni a ritrovare il proprio figlio e sono stati veramente in ansia. Cercare un ragazzo in quella grande città con tutta la gente che era in giro e quando finalmente trovano non gli scappa neanche uno schiaffo. Un rimprovero, quello sì. Maria gli chiede perché ci hai fatto questo? Perché ci hai fatto stare in pena? Niente di più. Giuseppe e Maria saranno veramente state in ansia. Tre giorni senza notizie. Cercare il ragazzo nella grande città. E quando finalmente lo trovano non gli scappa neanche uno schiaffo o un rimprovero duro. Soltanto la domanda di Maria, perché ci hai fatto questo? Perché ci hai fatto stare in pena? Niente di più. Se la risposta che riceve da Gesù avesse dato il vostro figlio o vostra figlia, voi cosa avreste fatto? Come vi saresti sentiti? Perché la risposta di Gesù era «Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio?» Secondo me, quella risposta in quel momento suona abbastanza arrogante. Certo, se leggiamo con il segno del poi, no. Ma lì per lì è duro. Per i genitori di tutti i tempi, l'età dell'adolescenza dei propri figli. E Gesù è proprio nell'età dell'adolescenza. L'età nella quale i giovani stanno iniziando a cercare la propria strada. Così lo sta facendo Gesù. Entrare nell'età adulta per gli ebrei maschi accade a dodici anni. E qui viene detto che Gesù aveva dodici anni. Probabilmente comincia a capire la sua vocazione e trova nel suo Dio anche un padre, il quale vuole seguire. Seguire le sue parole, il suo spirito, saranno poi per lui un impegno grande. E questo momento di crisi, di domande, di ricerca per il ragazzo Gesù ci viene proposto molto realisticamente, senza sotterfuggi e senza una aureola santa. Sembra che qui Gesù inizi il suo percorso per trovare la sua strada, la sua vocazione, il suo impegno per il futuro. Niente sarà più nello stesso modo. E sembra che anche Maria e Giuseppe lo intuiscono o capiscono. Ma nonostante il rimprovero, la meraviglia dei genitori e la incomprensione, Gesù segue poi i suoi genitori. segue senza ulteriori discussioni. Ci viene detto, li obbediva. Questa forse è la parte più difficile. Ora deve vivere nella quotidianità l'autorità di Dio Padre. Gesù è obbediente, seguendo i suoi genitori. E loro, per quanto loro ricordano ciò che è successo, per cercare di capire. E così, questo Gesù, quel ragazzo adolescente, può maturare, crescere in sapienza, età e grazia, come viene detto. Qualcuno scappa. Sembra già smarito, eppure viene ritrovato. Ma anche lui trova qualcosa e poi si adatta. Trovare è importante. Trovare il proprio dono e conoscere il compito che attende. Questo è evidente da questa storia di Gesù. Se vogliamo crescere anche in sapienza, in età, nella grazia di Dio e degli uomini, allora possiamo aggrapparci con fiducia a questo Gesù. Penso che questo episodio del Gesù adolescente che cercava la sua strada è un episodio che lo rende umano e che questo episodio possa aiutare anche noi a essere sicuri che Gesù capisce quando anche noi siamo alla ricerca. Sa benissimo che la libertà di cercare e trovare ciò che è nostro è essenziale per tutti noi umani. è importante quanto il cibo e le bevande come l'amore, il calore e un tetto sulla testa. però la cosa importante è di trovare la propria strada non quelli non la strada che altri si aspettano da noi e nemmeno quello che ci saremmo magari aspettati da noi stessi. c'è qualcosa che soltanto noi possiamo fare io te e lui quello speciale dobbiamo trovare e osare a metterlo in pratica e questo è la nostra chiamata quando lo avremo trovato ci sembrerà naturale saremo stupiti e forse penseremo perché non l'ho capito prima e perché gli altri non l'hanno già saputo e capito e troveremo la nostra strada per il momento e per il futuro e in quei momenti siamo sostenuti dalla fede in quel Gesù che ha avuto anche lui trovare la sua strada. Ognuno e ognuna di noi è unico unica e tutti quanti abbiamo qualcosa di speciale che deve essere sviluppato sarebbe un peccato se non provassimo ma cercassimo sempre di rispettare diligentemente ciò che ci si aspetta da noi. Seguire Gesù ci dà la libertà di cercare la nostra strada particolarissimo con Lui. Amen. A presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dio nostro, agisci in noi e trasformaci. Le nostre mani rimangono prive di forza se tu non ci sostieni. Le nostre azioni, i nostri progetti, i nostri intenti si perdono nel vuoto senza la tua presenza. Ti preghiamo, usa le nostre mani, le nostre gambe, le nostre bocche per essere accanto a quanti soffrono la solitudine, il dolore del lutto, l'angoscia dell'ingiustizia, la paura in questo periodo segnato dalla pandemia. Usaci per portare conforto a chi ne ha bisogno e non sa più quale strada intraprendere, quali scelte fare. Usaci per ridare coraggio agli sconfitti e speranza ai delusi, per portare il tuo amore a quanti non sanno più trovare la via della riconciliazione. Usaci, Signore nostro, perché possiamo essere gli uni per gli altri messaggeri del tuo amore. Nel nome del tuo figlio, che ci ha insegnato a dirti, Padre nostro, che oggi vogliamo pregare con il canto. Padre nostro, che in cielo dimori, nel tuo nome salte alla virtù, Su noi regna e sia fatto, Signore, come in cielo il tuo volere qua giù. Oggi il pan quotidiano ci dona, e le offese diventi ciancòi, come ognuno di voi le perdonare al fratello che gli è debito. Gesù che il tuo figlio, come in cielo, è il suo figlio, Come in cielo, come in cielo, è il suo figlio, che ci ha insegnato per il tuo figlio, Tu, fedele e glorioso Signore. Che Dio della vita piena e abbondante ci guidi nel meraviglioso compito di essere veri cristiani e vere cristiane. Che l'esempio di Gesù ci sfidi e ci impegni a vivere concretizzando giorno per giorno i bei discorsi che facciamo. Che lo Spirito di Dio ci convochi a pensare alla costruzione di un mondo migliore, fondato sull'amore, sulla condivisione e sulla pratica della giustizia. Andate in pace. Ricordatevi delle sorelle e dei fratelli che sono nel bisogno e nella sofferenza. E il Dio della pace sia con tutti e tutte voi, ora e sempre. Amen. Grazie. Grazie a tutti.